8 9 aprile siamo praticamente a santa marinella in provincia di roma e questo è l'allestimento questo è appunto l'allestimento della mostra alla quale parteciperò come cantautrice controvento arricchi e densatetti saliamo queste scale in questo meraviglioso paesaggio ed ecco il punto dove si effettua la mostra una mostra culturale contro contro i soprusi contro la violenza sulle donne contro le guerre questo è il panorama del punto dove si svolge e tutto intorno abbiamo la splendida località di santa marinella in provincia di roma ecco una panoramica velocissima hanno creato un punto certo certo qui cercavo di rispondere ai primi visitatori hanno creato un punto diciamo dove si si mescola bene anche la pittura oltre che con la musica che dopo metterò su io anche con il paesaggio di tipo marino quindi con le reti ecco velocemente uno scorcio dei pittori che stanno ancora facendo l'allestimento e presto inizierà la mostra un saluto da santa marinella mulla controvento ricky enzatetti mulla 8 9 aprile 2017 santa marinella porticciolo via roma salve